Riavviate No, è che passavano, passavano Ria passavano, arrivi Ma questa è quella di face wave Si Però è tarocca Ragnar ci puoi buttar giù o no? Oh Oh No, bravo Ripper la tecnica Si 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 No, no Però allora lo fai apposta No, no Mets No, te lo fai apposta Dicemi si perchè sono in underground No, 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 per quello Perchè in generale non è che partita tu vai da Da uno e gli dici No, non mi puoi buttare giù, eh, mi raccomando Quello è vero, però comunque dai Io, 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 io voglio parte Perchè non è giusto che Perchè non c'è quattro volte Io sono cazzata con me Ma che cazzo, ma che non è vero? Ma lo so, ma glielo sto dicendo da quattro Nooo Dai mi hanno il grano Mi sento il mezzo, non mi sento il mezzo Mi sento il mezzo Gli altri 100 Ale te lo può coprire Sparano la testa A ogni tanto Però comunque Mi sono suicidato Tipo, pure Molo si sparano quindi Mi sono suicidato da solo Ehm, Ale Si, io Minchia ma Secondo me Lui giocava da Mose e pastiere Io ne ho detto Io ne ho detto già Vabbè, Ale è troppo forte Vabbè, Ale è troppo forte Vabbè, io troppo forte Se muoio me ne vado Perché oggi non sto facendo altro che morire Ma se muoio me ne vado Bella La live in corso Ho già vinto? Dentidura Ma se è live? Si Ma come se è live? Non è trattamento E la seconda live è uguale Eh si, la seconda Solo? Cazzo ti lascio bannare io Cazzo ti lascio bannare io Io proprio in questa cosa Cioè Oh, oh, oh Oh Prova non farò Eh, Ale mi sono un po' forte No, 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 no No, 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 no No, adesso mi devi mettere mod, Ale La seconda della live ti guardo di fila Bravo, bravo Continua a fare Tua madre Senti, ti voglio bene Sì, ma vengo Quattro così ed un giorno Forse Archione Non mi fa filtare Ah Raga, odio gli ho fatto più a morte Che mi sta letta Ah, goto Come di sedermi che si fai Smetti da che fare Non fare il magazzino muffito Siete tutti i miei da Uuuuuh La fai non vado Ah, le tue che fa la punta Cioè dopo Eh Ah Ah Si Sono un pedofilo Sì, che non è buono Sì, che non è buono Figlia Struzzo Figlia Struzzo Figlia Struzzo Che cazzo l'ha abbandonato Aveva detto che siamo arrivati Sì, che non è buono Sì, che non è buono È morto 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 Non mi spara al fondo A me non spara niente perché mi ha acceso uno facendomi cadere Marco giuro che appena ti vedo dove abiti Ah, ah, ah Io avevo scherzato D'era scherzato Metti in pittura Mi metti un cazzino AAAAAAA D'era essere la mia cizia Metti, metti in testa Metti in testa Guarda come sto messo dai Eh bro, non ti voglio affrontare No io ti uccido AAAAAAA Ho visto per me Ho visto per me Se erano magari in vida Vai bro Ho visto per me E' il king, raga, il king. Fra, ti faccio arrivare, in gola. Non posso dire queste cose, è live lui. Io sono in live. N, B, C, Z, S, T, R, O. Vabbè, rifer succeda. Vabbè, l'avevo a te, non vai. Che troia! No, cioè io volevo dire... Ale non puoi! Mi ricordo! Volevo dire un'altra bella parola, ragazzi. Raga, chi è che lì? Credo che lo vai tutto. Nessuno. A chi stanno sparando? A chi stanno sparando? A me no. A Lollo. No, no, ho già capito. A Matmaro. Esatto. Non l'ho fatta capire perché... AAAAAH! Mi faccio diventare belli tutti in sera, che va tutto in corso. AAAAAH! Si sente un urlo! Che urlo maschile. Ma la legge la c'ha? No, raga! Se mi dai mod, ti spammo nelle mie live. Ok. Dopo te la do. Ma con me? Oh! Ma che cazzo? Che ti cagare per... Grazie. Prego! Ci credo, stavi giocando con me! Eh, ma no, allora! Eh, l'ho gestato, invece. Io in più! Cazzo al cazzo, Riper. Le riperdi o solto sanno, non sai giocare. La safela! La safela! Oh, no, no, no! Ci manca a trilgo d'arulos. Ci manca P grossi. Le raga sono morti. Prendi il mio Pompa. Domani che mi prendo il tuo Pompa. Si impugna Si impugna Pugna Pugna Si sente messa nella live che fa Pugna Bellissimo E poi vabbè si sente più dopo l'olo che fa Pugna Vedi? Cioè questo dovete fare Dovete clippare tutto Io sto clippando tutto La mia vita è bella quanto il piccione in una passerella In una passerella Madonna C'è Vabbè ma ciao Una bammerda Che è che mi ha fatto vedere? Pugna 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 Ma se mi dici non sparare poi mi spari tu Eh no perchè ti devi stare ammiaccioso No no io ho un cuore buono Sezzo vai 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 a cagare Adesso si impari Ho pedofilo Ale ma dove abiti che sei che non l'ho capito In Japan Ciao per se ti sapete Ti vengo a trovare The new Japan The new Japan is the The bear The bear The bear The bear Ragazzi tipo The bear The bear The bear No raga No raga che io giuro No io non lasciavo one E se non uccidi Matt Vabbè non ti fai Ah non ho ancora di vita Che si sta facendo disciplinare Ti dino pure i dettagli anche se non andrà per te Oh ma bella Oh ma bella Pugna C***o C***o It's dead It's dead It's dead It's dead It's dead I'm the best plat player in the world bro I'm the best pad Uuuuh Flex Oh no era mortuale Si l'ucciso io Justamente che sono il pad player non puoi mettere in dubbio rovio ragazzi devo mettere il pc della nasa basta dire se ti permetti la vedrai con me tipo gli afghani l'arte c'era se voglio distrutto sì ma va di valori per ucciderlo mentre mentre gli spari devi dire a ripo e la bontà arrivo è la bontà arrivo è la bontà niente non funziona più non funziona più hai perso me li schiacci a impierla vedi arrivo è la bontà mi ti gusta d'ogni età quando ti vedo dico arrivo è la bontà che ti gusta d'ogni età arriva è la bontà che l'uomo infatti vedi raga con il 300 di vita e il led seconda che ha 300 di vita non sei zitto 224 precisamente no io 300 arrivo è la bontà che si gusta ogni età ma è vero perché se muovi come alla follia no allora questo parte di grasso di maglia quindi te ah te sei un mare ah te sei un mare ah te sei un mare no no dove sei dove sei mette bisa oh ma che sfortuna c'è mette bisa guarda mi mette bisa e se ne va guarda mi mette bisa guarda mi mette bisa guarda mi mette bisa fuori arribo e lollo che muore questa e dai che non funzionava buongiorno è un po di birra che sei massivi di per se se non vinci targhetto di partita no no aspetta che lui faccia domina le basse si trova così fai 90 a caso che si funzionano sempre quelli c'è da pc o da non hai più materiali scendi scendino in materiali del povere dai vai ai bella punta e mi butto a unità ma che mi hai detto di buttarmi io no no non ho detto di buttarmi l'ho detto io no aspetta me l'ha detto a lei ma il cazzo ha detto lui a me di buttarmi ah vabbè allora facciamo che io di per posti antimaro ok no 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 basta ora mi voglio impegnare un pochettino di più cioè voglio un po di giocare serio ma non tanto il suo pochettino di più righe tra gli ardari non asciugamanino a redbull magari chiederei che sta proprio a redbull perchè io gli metti reali che può buildare di meglio esatto però esatto c'è tutto no no raga ho giù di spammare ma non si sta spammando nooo frate ho tirato tre colpi di mitraglietti ma che... si? puoi spammare? si nella tua vita da piccione spammare esatto perchè c'è un pochettino? non c'avete la mamma che c'hai gay sarei di mano ragazzi no non ti città non ti città non ti città nooo 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 oh ho saltato giù è più buono qua no 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 io pure quello mezza le tratte sta vai vai lo preso lo preso lo preso lo preso ho preso due volte ma sta mezza le tratte sta so fa so fa il lebrot so fa il lebrot ma ne... non è perchè non ricordi come ti scappa ahah ricchioni vedi almeno oggi? cioè almeno ora eccolo è un piccione è un piccione è un piccione è un piccino di fila lo sape capiti di marcia ah ti asura perchè ti sei avuta a me in strada? no ha fatto la cilada ha fatto ahahah ridi ridi che non ho fatto gli gnocchi dov'è 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 vabbè 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 ancora vivo sono 47 i materiali sono cioè vanno sempre ma poi dove torno tanto mori comunque uuuh 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 vai fishe 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 nooo ti sei il righe è il king ti stavo laserando mi stavo laserando ma cosa ve l'avete c'è no fratti è che quella che mi ha schifato dall'inizio No, 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 se ne metto 7, se è frosho, a te ti piace metterla, a te ti piace metterla. Eh, to' la zraona. Abbiamo 4 plopper, 3 plopper e un primo paquete. Allora, i materiali per gli dà la macchina di metterla, grazie a metterla. E' come se c'è, vai vai. No, guarda come sono messo male, ho io. Ma sono solo io in questa mappa. Ah, 6 pesci viola. Perchè li ho ucciso? Stavo fermo, stavo, vedi? Eh, scusa, 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 non lo faccio male. Stavo, ah, scusa, non lo sentia la prima. Ah, 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 ah. Qua Carmen si può offendere, però. Sì, sì, tanto la tua amorosa. Va, va, va. No, Carmen è l'amante, Carmen. Io però non mingo perché è 2009. Solo per quello, sono una botta, eh. Ma schiaccio. Sì, guarda, tutti i giorni. Tutti i giorni, sicuro. Eh, pure. Schiaccio, hai un aim fra... Manca i passplay, certo. Sì, guarda. Porca troia, scherzavo. Oh no, non ho cure, ho poca vita. Il cazzo ha buildato la piramide gizio. Niente. PAM! PRRRRRR! Sì, ma che lei non dice... Oh no, 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 no! Non cazzo, non, non invece mai colore tipo viola così che dice che attiene un po' attenzione. ooooh percheoo cioè non dico perchei ooooh un bucciole viaggiatore non lo so quindi si lo so è poco ma io penso forse io però una bo- una bo- dai riperpera non c'è una botta li do eh ma si è sentito tutto l'aglio lo fatto eh raga eh si è sentito che facevo l'aglio per eh alla mia amica amica eh amica eh eh raga perchè sto a scegliere che gusti alla mia ragazza perchè devo fargli l'anello per l'anniversario l'anello è di diamanti l'anello è di diamanti l'anello minimo di diamanti è quasi un anno che stiamo insieme io e leimo si scusa faticato che anni hai tira 15 dal primo superiore che stiamo insieme stiamo in secondo superiore ben caso insieme? no dai i bagni i bagni in comune si va a casa mia e se vuoi di impresto lo yacht se vuoi di impresto lo yacht vedete voglio trova a creare insomma come degli anni c'è sempre una prima volta che ti ha incontrati una potete riavviare appena uccidori no 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 I'm nmi riva da me vada e da chi devo andare? dai METTO me che ti rendo a me no 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 I dai mette bisogno ma sta curando vai su una idea ma tre monna della serie lasciarmi curare che no a mario no nooo un picciolo arrivo arrivo riavviate riavviate raga io ho sgrumato vabbè e io metto metto con più puoi stare eh con chi puoi stare se lo confuso aspettate tutti insieme parlate l'unico che ha detto che vuole stare con me quindi lo starà con me Lollo stai con me quindi nooo Lollo puoi stare con qualcun altro sennò puoi stare con Anzi Ale puoi stare con te con te con te andiamo andiamo niente quando però puoi stare con te Lollo no zitti Lollo Do you see me? Do you follow me? cosa ho detto? che cazzo ho sentito ho detto ho detto facciamogli facciamogli le box fight protettive andiamo squadra 2 e Matt squadra 2 e Matt siamo belli no non è vero faccio schifo anche io ok mi guardo queste cose oddio mi sono fermi eh anche io faccio schifo vi ho nato con un comune da noi c'è Ale è destino Reaper volevi mettere no allora io prendo il quattro ho preso muro record mondiale ho preso muro record mondiale ho preso muro mazzerchione a un po' il quattro è il quattro è il quattro è e è a ok a non che l'oggi si ah occhio no shield no shield ripersona nella merda qua si ha preso il murbro no shield no shield ti chiedo tieni occhi da da destra Tieni Grazie Porca troia Però io muovo lollo Eh, io ho lollo e mi allagerato 20 io ce l'ho fatto Atterra lollo 6 5 1 1 1 1 1 2 3 3 3 bianchi bianchi bianco bianco sbobbo bianco sbobbo bianco sbobbo, regà, nuovo colore da clippare quel cazzo metto c'è, no, c'è il pipe metto, metto lo spettatore, vai distrutto ha uno spettatore che sono io no, io dammi una mano, brumla dammi una mano, brumla bla 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 c'è a pesce, bro no shield bugate eh, io c'ho metto eh, vabbè, ma metto, l'avevo messo, no no, eh, tra niente vieni da metto vieni da metto vieni da metto panico, panico, panico paura panico, panico, panico poco fa bravo, 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 bravissimo bravo, bravo, bravissimo ah, ah, ah ah basta mettiti in realtà non ti fa referale ti fa fermare ma mi sto laggando è quello il fatto cioè, non so cosa di fps, però ma come, da play? ah da play ci fa laggare di fps si, si, si eh, se c'è la play del 2014 si eh? se c'è la play del 2014 come la mia, si anche io non so fatta guardi quel primo modello uscito quella nono quella esatto anche io la prima la prossima, bro ah quanto ora è? che c'è? eh la bonti la bonti io no, perché non c'è soldi eh eh no, ma quelli che ragazzo dov'è che me la porto no, questa è 450 eh oh non c'è un euro per comprare miglia la sicuramente qua ma perché ho i safari si blocca tutto? no, ma tipo le pareti mi bloccano mi, 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 mi fanno tipo eh, guarda, guarda, guarda guarda, mi stai guardando fermati, fermati, fermati guardami, guardami guardami direi guardarmi eh scusami eh eh guarda è vero? c'è, non è che so io eh eh io, io, io non posso farci niente ragazzi ma non sa che la mappa non sono io che stai vicino alla parete mi si blocca non ha senso c'è preso 40 hit così io sto vicino a me ma, ma va, 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 va se sto ci non avrete adesso no ok, è stato prima perfetto no, prima però se avete vissuto è una cosa sull'occhio signorino io sono un po' ricordato capisci 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 ah capisci 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 paura si capisci 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 ok, c'è però mi ha fatto paura non evitando di tale ma sc silence D'aletta! Voto, 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 voto! Eh, vabbè. Eh... Ah! La glaccia tra la glaccia lì, perché il mo' è caio, quello. Eh, sì, domani. Ah! Tremone! Tremone! Non c'è qualcuno, eh? No, io no. Ma muori e mi dai vita! Lui generale. No, no, non mi dico niente. Io posso... Per un sniper a reale. Non ha cura, ovviamente. Povero. Ah! No! Lui ha sparato il pompone! Ah! La glaccia, no, ovviamente, lui. Oh, io direi, però, di fare un po' di agli arlollo, eh. Sì, sì, domani lo faccio un po'. Domani? Sono sempre in labi, cioè. Mi ha avuto uno parallelo? Allora, io qua c'ho... Eh, te lo faccio andare. Eh, te lo faccio andare. Eh, le ice all'angolo. Qua non uccidetemi, mille. Qua sto fermo io. Mi metto sotto, mi metto se... Perché? Non uccidetemi. Eh, fa una cosa. Ma... Ma... Riper... Ah, uno... Ah, cinquanta di... Ok, però... Finiscilo. E vabbè, ma certo, ma io mi... Chi la... Chi la mette... Mette blise. Ah, è via. Sì, fra... Forever, forever. Chi sono, chi sono, chi sono, chi sono, chi sono. Forever. 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 Hai fatto l'alendo. Hai fatto uno sbo... Senta. Sì, ha punto. Mi hai fatto fare il pompa piccolo. Non entrava ancora, non entrava. Eh? No, niente. Pompa piccolo. Che cazzo non ha capito. Pompa piccolo. Ah, pompi... Ehhh. Eh, pompa... Eh, pompa... Eh, shit... Ho capito. Eccco caos. Non ti dici te know, eh. Vanno riperdani la life, cioè... Eh? Vanno riperda... AH! TUA MAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Sei un edzo! Che edzo! Mi ha usato bordi come arbi commercials I much animation Come qualcuno è c'è a scar тем trogo Ma comunque è c'è voluto tanto per realizzarlo eh Ma comunque è ... piccolo pompa piccolo pompa e sgheri 50 perché deve fare il tremone muro da play lì prendi il muro dallo io a peta c'è me oz mi do a truram bello, bello curarci mi repito io 29 mi fanno scompa l'altro vabbè sono su 59 in testa a uno ti ha squagliato la letta eh non lo so non lo sai la like non lo so il motivo non lo so io posso sto sicuro non smetti di fare il muro la sera ahhh 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 c'era c'era ahhh ale c'era ai c'era c'era Sì, fra... e io l'ho messo bene, secondo te. Non farà. L'avevo distrutto, hai palle, eh. Hai palle l'avevo distrutto. Prendiamo tu, Aya, Lollo. Perché diamo che non lo isero? A fare lo sbuffone, dice, non ne ho bisogno. Guarda come si sente forte, guarda come si sente forte, non parla. Chi? Io? No, no, no. Aya, Lollo. Ma cosa vuoi... Oh, ma, oh, ma, di questo, guggio! Guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Povera, erano Lollo che... Stuck! E va bene, pure la scala. Ah, hai... 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 Poli, sai? No, è fiappone, non ti ha funghi, non ti sai, se vena ha... Oh, oh, distrutto. Oh, oh! È lui il king di Fortnite. Sì, domani. No, no, dico vale. No, non è vero. Vai, l'ho allozzo, vai. Ah, no, 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 no! Ah! Ah! Ah, no, sei... sei a far boss. Ah, mi sape. Sabe, pure ho messo. Ma, pussacchi, tacchi, tacchi, racchipa! Tachitacchi, rupa! fieade. Tachitacchi, rupa! E' un gin, un binggi, un brickant, che lo amando, va. Un binggi, un brickant che lo amando, va. Ma no, ma devo dire? Aaaa! 42. Anche io 42, ciao amico! 60 non ho messo la scala la tua ragazza ti lascia e power off the flyer che se la perdi qua la sua fidanzata ti lascia che con le più porte a fornit sono più belli no ma perché ci sia bello ma c'è la faccia che sembra un cammino spostato no no io dovrei dire pad player di merda con l'automira esatto l'automira è da gusto io bello e l'ho tolta l'automira è infatti ma non sto dicendo attia sto dicendo altra l'ho lo devo dare una brutta notizia sono io io non ti ho fatto bene ah no no tranquillo ragazzi tornare al centro tornare al centro dobbiamo vinto noi dai tornare al centro porta perchè? faccio una mappa fighissima ragazzi mi dobbiamo mettere una mappa bellissima vieni qua si vieni qua hai due contro due ciocca fuori le mappe con te push a fuori contro le caratteristiche signori guarda qua sotto le scuole guarda venite qua venite qua sta bellissima ragazzi no eh ah si è che l'ha caricata si ma dove è? eh quella non sta sotto quella quella sinistra sotto sta non sta sotto le scale ah gun game no murder no 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 gun game murder murder mara murder idea cosa devi fare bro? si 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 sei utile entri siete cosa bisogna fare? si deve difendere c'è che distruggi c'è che distruggi c'è che distruggi ah bella di boob shot no riprendi questo questo io prendo questo io prendo questo prendi con me poi andiamo a difendere di là noi bisogna attacchare noi andiamo da scala attacchiamo di là io sai cosa c'è che distruggi sai cosa c'è che distruggi? no no perchè non l'ho mai giocata io sono creato e frate sarebbe prima di fare una bomba sugli obiettivi e loro devono disiniscarla o non faccio la piazzare da merita l'ho visti l'ho visti l'ho visti perché vuoi il Katya? vieni si vai difendi ciao vas e tutto vai PIENDI la bomba i vice touch dai 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 adesso dai guardiamo dai dai che dai L'altro non ha riuscito L'altro non ha riuscito Vai! Cazzo non disini a sca... No! Chiuso! 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 Vabbè vabbè 1-0 1-0 sì sì Ma ora tu cosa vuoi fare? Siamo delle onde di attacco o delle onde di ripresa Però prima che arriva a 4 vince Attacco più difficile Sempre attacco sì sì Però vediamo più monete e prendete più armi Ehi! Quasi tutto posso prendere Ma che bel gioco Io mi prendo Io vado... Io vado... Vado su un scialla Bro se non è ora guarda Eh sì, te vai lì Deve andare? Verso destra o sinistra? Eh... andiamo lì là Viva! Sì sì capito capito Ok non l'ho visto vai attenzione attento tanto l'ho visto io Bro da me! Bro da me! Bro da me! L'ho visto anch'io perché... Cioè... Occhio occhio! Dove? Da me! Alla B! Dove? Ah ho visto uno! Viva occhio! No shield lollo! Eh... Non ti neanche io No! Bro quell'altro è a 35 white L'ho fatto! È dentro! Davanti davanti ecco Ma le monete come si fanno a prendere? Il piede! Il piede! Eh lo so l'altro c'ho voluto tutta di vita Ghetto comunque... Aiollo! Le monete come si fanno a prendere? Eh uccidendo... O uccidendo vincendo round Oppure... Le monete come si fanno a prendere tutto No! Io no! Eh io si! No mi lasci il pompa che la mia Grazie, grazie, grazie Grazie, grazie Di là, di là, di là Adesso vanno di qua No te vai dove ora Facciamo come ora Com'ora Com'ora No è loro No no Ma se vuoi comprare più shield, ragazzi Ok Andiamo là dove ho detto Andiamo là dove ho detto Occhio però Per farti vedere Eh ragazzi ci stanno... Sono due in là stanno eh Ecco, bro da me Basta e non muori Bro da me Lo shield, lo shield Lo shield, lo shield Lo scaccio, lo scaccio, lo scarro e niente No, lo shield Lo shield No, le one shot A me non prendo le monete Ma adesso dobbiamo difendere noi eh Ah, quindi adesso ci vaga tutta a noi Sì Però sì sì, ci vanno scherzando Perché siamo all'attacco, regalo Regà, ma abbiamo tolto lo scarro No, però a me non mi ha tolto prima niente A me sono lo scarro, caldo Ma io ora c'ho bisogno di far mettere una punta O non ci devo Ma a me fate nelle solute cose Eh, dopo la mia mamma è che si è fatta un baggata Ho usato le monete? Ma se le conservo o me le tiene? Ma non ci devo difendere? Ma non ci devo difendere? No, a me non mi ha tolto Ma a me mi dice difendere Ma a me mi dice difendere 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 Vabbè, lui è attacca... Non mi deve attacca a noi, regalo Perché sennò ci cambiava di lato Defend Site A and D Eh, difend... RIPERVE DI LA No, no, no Ok, dove di là Il carriaro è di plantato Dove plantato Sì sì, siamo noi siamo noi Io faccio attenzione Che arriva Bro, da me è RIPER Eh... Beh, era tutto sotto a capa Ok, allora Forse ci arriva dall'altra parte RIPERVEI RIPERVEI Voi copro qua Io copro qua, mi hai visto? Io copro se arriva da lì Ma bro... È là! Oh... Un porco judo! Eh, avete vinto Eh, avete vinto RIPERVEI Il mio resiste, il mio resiste Ci basta prendendo tempo, eh Eh, avete vinto, ragazzi Gli occhi? Gli occhi? Gli occhi? Gli occhi? Gli occhi? Avete vinto, basta Eh, vabbè 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 Io non può che di monete però Eh, c'è da... Non lo so, dipende io Ma c'è da altre comunque Vediamo un po' Ok, non devo difendere adesso, eh Dipendiamo Ok, perfetto Perché mi toglie le armi le gambe? Non ho 200 Non ho 200 Mi prendo... Questo Mi hai visto? No, anche io le conservo ancora Io le conservo ancora Io le conservo ancora No, è brava Oh! Non ci deve attaccare Non ci deve attaccare Vabbè 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 Abbiamo Met Stanno andando presso la B, l'ora, ok? Sicuro? Sì Sto stare... Sto stai... Sto sperando Dai C'è la da me C'è la da me C'è la da me Eh, lo so È 35 sto arrivando perché ho visto che andavano all'abbimano ho realizzato dopo il pombo oh my god per amore per amore per amore per amore per amore per forza è bella questa mappa perché ne ha così andavo trans è bacchissimo no come prima ok vieni come vieni come mi sto vedendo non ci puoi vedere non fa così dai 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 me l'ho visto un visto river qua no scendo mi ha rotto mi ha rotto mi ha rotto mi hai rotto mi ha rotto c'è ne uno qua ho dove un campi ce l'ho da muo rischio eh va bene mi ha rischiazza prova Quanto costa il pompaio che c'hai te fra? Non lo so abbastanza Tipo? Tu devi sapere molti da modi da infinite però mi sa Raga ma se ci fanno Posta 400 Dove ne metto un'altra che è fatta meglio Ah quella lì baia No 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 eh fabbrica No a me non piace fra me non piace La fabbrica è più piccola almeno dai Baia troppo da nelza dan 2 Eh ma a me non mi piace Dai si No no la ah ah ok Preferirei baia però Facciamo un altro tipo di map Bobo Il cappio ne so da anghe No da me da me Da me da me Da me da me Dai ma quello la cazzo ci sanno No non sto più stream sniperando No da me Da su giro papista Mi stupi Good Copy me And post Ah Vai bro ce la fata ce la fata L'ho cattata Eh lo so ma io sono bloccata L'altra è wild Non c'è che mi blocca lì Intanto te Mi dobbiamo fare la domanda Dai dai c'entra L'avete di tu Mi hai detto 6-1 Dai Mi hai diventato già mandato la quattro Infatti è bug Raga Raga io sono in lobby Mi ho detto pareggio Anche me Meno di scontare Vabbè tornavo certo Vabbè pareggio Vabbè pareggio Vabbè pareggio Vabbè pareggio Casuali le cose No fra E quindi possono capitare met e ale No raga Siamo in squadra diverso Siamo in squadra diverso Non può Un po cadersi Invece perché qua non c'è la selezione squadra Ma siamo spesso in squadra diverso Quindi saremo sempre ieri per me sembra Mi sa poi Io non sto più stint sniperando che sia chiaro Non avviate appena entrate Non avviate Non avviate Perché? Non avviate aspettate No no Mettiamo in squadra Tutti in squadra 1 Tutti in squadra 1 mettiamoci dai Io ci sono Tutti in squadra? Uno Io sono già in squadra 1 Ah tutti in squadra 1 Ok allora è casuale Allora è casuale Io è? No 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 Proviamoci 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 Oddio Oh viaccio Io provo a fare cross the map Sì? Ci provo Prova poi andiamo Trai Dividiamoci Ecco tu hai capito dove viene Se ci siamo adorfine Ti auguro Ci siamo dipedenti in difesa questi non ho ho capito Da te No la vinci lo vedrà no 25, 50 Capri, capri, capri parte a troia 25 5 blu blu ah ma fatti il giro l'altro bella giocata bella giocata bella giocata non so se diventerà è troppo forte è infatti 35 punti buono tagliate monete ma raga allora ora ci fa questo poi dopo ci cambiano se ricapitano vabbè no se ricapitano si sa quello che dice ehm è possibile che non ho un'arma io ne ho questa bra guarda che ho preso io è rotta è rotta eh lo so ma io preferisco questo ma ne ho anche un'arma ricorda che c'è questi guardami guardami guarda che c'è questi eh ah lo so lo so brava vieni da me ne ho 30 brava vieni da me aspetta che non so se sono da te aspetta la traccia un giro ma li stai guardando tu ma li stai guardando tu è bellissimo ma scusa non ce l'hai a fianco no boh no allora sono dove eravamo prima si sono dove eravamo prima vai imbrace nooo ci sono uno vai l'ho fatto per pentà l'ho fatto per pentà l'ho fatto per pentà sono morto per pentà dov'è oh sono spazzata oh sono spazzata oh sono spazzata da sopra però io ho intanto fatto di 5 spazi robili no mi ha fatto headshot tu di disinnesca ok beh ti hai detto ti hai detto eh hanno vinto vabbè vabbè cazzo quante monete hai adesso? raga ma perché non muore? ma perché non muore? niente ti dirmi in generale ah ok silenzio tipo sperando che ci sia la vittoria a caso ahahah ahahah c'è tutte le armi eh roki eh c'è tutte le armi se sì sì io ho 300 però le tengo rispetto rispetto io ho fatto questo camion lo sempre vedi sempre questo vedi sempre questo sì sì ovvio tanto poi si tolgono quelle kai quindi non ha senso il shoot quando è l'ultimo round questo è l'ultimo giusto no manca ad annuo se vuol'ultimo round che facciamo un attacco B I A, no A B B A B B A B B B B B B B C Damai 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 E arrivo C'è il P.A.C.C'è provato Mi hanno squaliato Oddio Non muore Fatti gli armi, fatti gli armi, fatti gli armi Eh, non c'è un capo No, è bravo, non prendo una hit Ho diventato, se non mi prendi Sì, io lo spello Questa, in teoria, è l'ultima Dove non hai vincito questa No, è tutto il armi adesso, cazzo Ma mi ha tolto tutte le monete Eh, perché lo devi cambiare, lo devi cambiare Lallo, lallo, destro Dove, di là o di là Tu vai di là No, 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 vicini, vicini Cioè non vicini La bomba dobbiamo impazzare adesso Adesso siamo in attacco Da mia Arrivo Ma come cazzo? Ma cosa faccio? Sì, 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 sì Non sto in campo Oh no Sì, 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 sì si è giocata mali, me l'hai giocata bene si ma voi siete troppo qua aspetta, piaaa... passami cinque quattro monete passami cinque quattro monete passami cinque quattro monete quante? cinquanta vabbè c'è una tattica infallibile ehm ho una tattica infallibile vieni ma filati in tu se si riesce a fare non lo sai? no, si va per tutto no, vai di là, vai di là sento vado a te, non scupo vabbè, prendilo in fuoco prendili in fuoco, prendili in fuoco no, ti stavo apriro l'hai gracciata l'hai gracciata uno l'ho ucciso l'altro l'ho buttato l'hai gracciata l'hai gracciata è partita è una gracciata lo vogliamo venere qua da lui poi salgo su, ho distrutturato l'altra da dire No, no, ma poi è stato .tv Bella per Lollo Lollo? Raga, mi sento a tracciare Presidente? Eh, raga, infatti sono solo Trash Presidente Presidente? Rip, pompa, epico Raga, bello Sono verso l'ip, pompa, epico Aaaaah, aspetta un attimo Mi stiracchio Aiaiai Aiaiai Oh fammi una cosa Fia Fia, fai di quanto che devi passarti Faccio una cosa fia Trastavela Che le fai? Mi sarebbe 150 metri Eh, da vercele Il calcio è molto Voilà Siamo messi malissimi dentro noi Eh, malissimo Non ho pulmonelle Vedila, vedila, vedila Ma lui c'ha la pompa, da dio Sì, forse la loot dell'altra Vedè Non sembra Sì, sì, sì Sì, guarda Sono un coglione qualcuno Perché? L'hai guardata e mi butta adesso e ti vado Cazzo Ehm, guarda per dentro Posso subì? Sì 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 Fa culo Ehm Che dissi? Che ti ha dissato eh? Cioè, ti ha visto come i caprioli in inverno Sì 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 Almeno io mangio qualcosa Io mangio Io mangio i capelli Io mangio i capelli Io mangio i capelli perché io i cazzi non mingo io Le piadine invece con me Ma Le piadine, infatti si vede dalla forma qui sempre P-DI Ci fai Simpatti Cazzo Tu cazzo Tu cazzo Tu cazzo Tu cazzo Tu cazzo Tu cazzo Ehm Raga Ah no, ma non c'è che te l'altro Que' è andato Tu cazzo È vabbè Sei riuscito dal il coronavirus Dal modem Ehm Non è mai il lobby scelto scelto vacante per giv 450 euro come osster blue size 90k però quanto solo io però non voglio spettacolo eh? ragazza 30k jassi slagget 30k pink schwartz 150k dior papi 34k cosa? ripar cosa? forse ti metto mod eh? ti metto mod forse fra eh 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 mettete squad squad? ok 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 tua madre? eh? bisogna vedere se ci sta super camera scusami eh bisogna tempo di controllare già ho lasciato tua madre? eh? non è online eh no piango sta super camera bisogna tempo di controllare fammi cambiare la skin questa qua non mi rende potente ho lasciato non è online eh? chissà perché nel line eh? eh? ronco mi sa perché nel line eh? 2009 sa presto a lavorare dai 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 ma no c'ha dieci anni dai 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 chi bene inizia a metà del'opera mod redatore mo redatore dai si mog redatore muore datore il re da sole del muore del cazzo è quello che dice la felice raga 25 euro le macchinette ma come c'è quella certa certo di amica maria Adesso che non ci sta Kaiser, perché non facciamo un altro divo? Adesso che non ci sta Kaiser, perché non lasciamo questi divi e entriamo un altro più forte? Mi sta scazzando Eh, perché no? No, ho detto, stavo dicendo tipo Adesso che non ci sta Kaiser, fammo a nessuno un altro divo No, ma ti bello Altro perché tanto io non... C'è mia madre che viene per entrare in casa Cioè, tua madre cerca di rubarti casa Tua madre mi ha rubato casa Dai! Ops, mi è fuggita Vai, falle, come bello Dai, regà Guardate che vince il team Sì, fai E' dito che se te la scrivono a più incazzi Vai, le vanno a scu... Ma quando mai? Tu ti inventi le cose Sei un bugiardo Oh, regà, non mi rubate qui, l'ho lasciato da one shot Eh! 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 C'è che vuole trovi? C'è la live, buco Ti giuro Ma che live? Ma che vuoi? Ma cos'è la live? Ma la che live è live Penso te stessa? E' veramente la live di lui, però va bene Questo è il suo potere bene Mi farei colpi pompa e mitraglietta a pizzo? Eh, mitraglietta sì Anche pompa, grazie Eh, grazie mamma Hai... Ale non sa Hai pale non sa Hai una mamma e 3.000 pa pa Lo so che hanno detto bravo Riper... C'hai le cuffie del Burundi Ah! Ah! Questo cazzo, ma che ha plummi non c'è spuglia No, 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 che tumore Eh, so che sono le cuffie, ma... Eh, vada un po' giustamente Sta da sola, sta da sola Ma... dietro di te, dietro di te Ma guarda, stava dietro di te Sì, l'asta io avrei scelto Oh, no, no, no Questa è una scala con la... con la El Che ha con noi in campo Ha proprio... Ha proprio... Ha di giocco, la El Io raga sono... Guarda, il pare che è nato Guarda, mi ci muoio Guarda che fa... Sotto il Carmen No, se tu mi fa bene Mi fa solo che ci do E poi... All'El Mi sta in gruola... Fa dooooo Eeeeee Mi... E' la scheda, la scheda La mia scheda, la mia scheda La mia scheda, la mia scheda La mia scheda La mia scheda Piango, lacrime virili Lacrime virili Bro, la mia Te l'ho già presa Ma che significa di da sua? No Bro, non l'hai presa la mia Dov'è la sua? Dov'è la sua? Il sopra Oh! E non ha detto niente Ma ormai non c'è io col più bomba Enrico, no E che guarda? Non ho preso lì Oh dai, che fai Non c'è io Ci vai a restare? No No Certo Santissima Mazza di sto qua che mi sa che scazza Ne sai No Ti ha fatto uno Scala Scherzare Siamo in live da un'ora e otto minuti Dov'è? C'è io c'ho anche il club che porti iscritti però non voglio farci Cioè non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Non lo voglio Ma il ma... No Matt, Mar No Matt, Mar Mi puoi sponsorizzare? Matt Mar Concierto 555 video e 506 iscritti? Si Mi sono iscritti Potrebbe essere una motivazione per continuare a fare video? un'altra forte unici visitare mi puoi supportare c'è sì a sfruttare mi vuoi ma il mio ultimo video risale a tipo un anno fa 40 forte ma è una bestia c'è proprio tipo io 2001 ha durato il minuto di dura la conta quindi dura vent'anno ecco la faccio il sito quanto che ha messo però comunque poi avevo una bella hate vabbè ora proprio voglio andare a vedere la life che mi hype vale perché voglio lasciar venire a farla vabbè 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 da via i dethò sono qui a più ora mesi di quanto pare sì 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 confesa eh che posso fare che negrosca sono un cioccolato perché non sto bene? se mi fai dentro la live infatti la live è mia quindi a te chi te sei? è vero ma lo sapevi? e non è che stava con me invece con te no eh? bravi 3 rivolta la live un po' più dietro perché? che hai detto? no riprendibilo guarda che non ci gioco più riprendi riprendi non ti faccia mod non ti faccia più venire a casa mia con 200 fps dai pru ma te guarda con calma tra qualche giorno vieni vieni nella live e te lo scrivo nella live riper io la posso vedere eh non so allora da lui lo sa riper di ciao ciao a venire a casa mia il mod no brugge no dai fate gli scherzi allora non te lo dico oh ma che peccato non avrò mai tempo riper ci siamo vabbè riper ce n'hai uno dietro no riper ti rienimo dopo no no lo dovi bullizzare il cavaliere nero c'è riper con calma è da me il cavaliere quello non nero ma rianima riper no perché ma nemmeno io lo riano allora ma quanto stai sotto ma chi è i ragazzi z wendrix keyboard ma perché bruno cioè non vuoi rianimare eh tanto vabbè ma lo so legato al dito io me lo so legato non mi schia dai ma c'è ma qui mi state tolta no 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 non è giusto perché allora se mi consello dico cioè quell'altro mi vanno cioè li butto fuori da casa sui spontaneamente se non lo dico quell'altro non mi vanno da qui se lo faccio eh se non si sta a casa insieme in questo momento eh in questo momento sta a casa insieme si è a casa mia oh river ma c'ha c'ha un castello lui ah cosa sua è un castello cosa sua si ah ma dai però vuoi come cazzo mi dire è un castello non scusare è un fottuto castello è un castello di mezzo molto è ricco tanto tanto te lo regalo io fra i 10.000 più bacchi che ho ma bugiardo ma ce l'hai appena bugiardo no non so eh però mi sono comprati due skin e un piccone ah no due bubiselli sono povero io non c'è un euro 1800 più bacchi allora vuoi fare davvero un play eh costa la corretta non puoi giocare eh aspetta quitto hai ragione quitto se no la consuma troppa tieni riva dai amico amico don't puttare amico dai amico nemico non puttare ah no ok no bene ci muove ci muove dai no negri petto ma perché è il disegno qui qua eh vabbè quello si sapeva dai si sta baggando il terapone vabbè vado a riportare lì non capirà ho detto in realtà che non c'ho voglia di fare i video non c'ho voglia dobbiamo studiare uscire l'anima che sta eh eh com'è hai capito ora che poi le voleva dire a lui ah è questo buongiorno c'è che lei è stato prima con lui buongiorno per il tuo castello si riper fuori casa no no sento che l'aveva capito no no vai fra io le faccio vedere una foto me un castello dico è tuo si è mio ciao cioè lui se l'ha fatta prima lui e poi fatta io le ho parlato e nulla non è fatta cioè vabbè comunque c'è stato prima lui e poi dopo no vabbè 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 ho guardato pure questo oh continuo per guardare vabbè no stai guardate stanno molto come un paese bar stanno molto come un flopiker ragà Dica 87 metres mini che t공 bomba se non spara bene io ho detto ma perchè mi ha mutato mette per me brava e non si faccia avrò messo la rosa è stato come se stanno andando a diritto e non sta bene al limone in che senso sta bene è cresciato mi so no, fra, avrà messo la corsa automatica si, ma sta andando a corsa la montagna lui ammette, lui può con lui che può no, avrà messo la corsa automatica ha aperto la porticina no, ha messo la corsa automatica ah no, ok, salto lui può saltare lui può, ragazzi dai, mette, non lo faccio più mette, non lo faccio più mette, non lo faccio più e vabbè, raga adesso secondo me sta contattando la fifa perchè no, scherzo dai, mette 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 l'italiano, l'altro thailandese bello è un quadrilingua si ucciso uno ucciso due ucciso due ucciso due grazie 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 ucciso due l'ucciso due ucciso due i scendini ucciso due i scendini ucciso due quando parlo io, lui si mette per l'aereo ah no, ma mi sa che mi ha mutato pure a me si gara e si balla mette dai mette mette io ho, c'ho irruzione in casa un attimo ok ah? irruzione in casa, gente che li entra in casa ah, c'ho un pedofilo dietro oh, buongiorno oh mette non ci si dà le canne in questo momento dai a mio piacere non ci si non ci si non ci si Sì Bontanile davanti, lì alla est Sono on the mountain Ma hai visto il breve che isstita, cioè nel l'auto? Cioè nel laudo? Cioè, tipo, nella prima puntata, tipo, si è vestito Sul porcelino? L'è vestito tu al tildurale? Eh, il del porcelino Ah, sì! Fregaa! bello e dai la sto pushando senza rispetto certo al certo il figotto lui è appunto c'è figotti c'è alle tugna e ppc no solo 5 ragazze 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 la giuro con la liga neanche a dire sono tutti scherzi poi quando mi guarda Rifa non sta troppo ferma Ma raga è dentro me C'ho quest'albero che è da noi A le, a le gente qui 20, giustamente Io non posso farlo Metto ce la fai? Eeeh da davanti Da davanti A quello la da mezzo Ok mettine uno dietro E' quello sotto di noi sparamente Raga è sopra la montagna Eeeh E ti la vedete dopo il ventinamento E vabbè ragazzi dappertutto Ci vado io ci vado io ci vado io Ah ha distrutto uno però mi stanno sparando da un punto Ma già prima poi io non jump Sì 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 Raga avete scelto? Ah Perchè è tutta a me? Guarda guarda tieni guarda Ah non c'è le scuole No c'ho le bende Tieni Non ci credo Non ci credo Vabbè sedici li può Non li può Sì 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 Sono Sì Insomma Sì 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 C'è La gente sta a giocare Una kill No Raga no No Stai pensando niente io prima di sono la mia decollare per l'ottica allo scarnitico a riper la pistolina bianca rivediamo il nostro supporto morale soprattutto bene raga prima c'è prima mi ha dato un supporto morale a tutti proprio nella genre qui quando l'ho ucciso pure ale per la prima volta invita in 18 anni riper 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 nooo io non ho fatto un po' io non ho fatto un po' ehm mette e carmel riper 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 che non mi parlo più comunque che credi di una cosa alla fine elimina la live perché ci sono parole che non ci potrebbero stare su youtube quindi dovrebbe andare al canale ah 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 autunnalutica guarda elimina però eliminarla poi ilную nome menti riper come lei